oggi facciamo delle pennette funghi e salseccia con i coperchi magici questi coperchi sono dei veri e propri sistemi di cottura che sfruttando i tubi di venturi questi buchi che vedete permettono di modulare la fuoriuscita di vapore e trasformare ogni pentola padella in un perfetto forno ventilato a vapore andiamo a realizzare un primo piatto in una sola padella anziché due in una casseruola mettiamo dell'olio d'oliva aglio tritato funghi cardoncelli congelati non c'è bisogno di scongelarli perché magic cooker scongela anche poi avevo dei funghi champignon freschi e aggiungo della salsiccia di maiale a tocchetti e vado a coprire con il coperchio magico e faccio andare a fiamma alta ogni tanto girate con il mescolo sempre a fiamma alta poi aggiungete del sale e versate un po di vino bianco e coprite di nuovo dopo qualche minuto aggiungete della polpa di pomodoro aggiustate di sale coprite con coperchio e fate riprendere il bollore dopodiché potete versare le pennette si cuaceranno nel condimento quindi sporcate una sola casseruola e aggiungete due bicchieri di acqua ogni 100 grammi di pasta ci va un bicchiere di acqua e mescolate e chiudete con il coperchio fate cuocere il tempo indicato nel sulla confezione della pasta in questo caso a me c'era scritto 8 minuti questi coperchi anti oduri in acciaio inox fanno risparmiare tempo fatica e denaro inoltre vi permettono di cucinare in modo sano preservando tutte le caratteristiche organolettiche degli alimenti eccola qui pronta una spolverata di parmigiano e del prezzemolo fresco ed ecco le pennette funghi e salsiccia come al ristorante lasciatemi un like se anche questo video vi è piaciuto e continuate a seguirmi ciao